Ciao, 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 benvenuto, 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 buongiorno, 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 buon pomeriggio, buon pomeriggio, buonasera, 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 come sta, come sta, come stai, come stai, come stai, come stai, che c'è di nuovo, che c'è di nuovo, che c'è di nuovo, sto bene, grazie, sto bene, grazie, sto bene, e lei, e lei, e lei, e tu, e tu, e tu, buono, 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 cattivo, 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 grazie, 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 grazie mille, grazie mille, Grazie mille, non c'è di che, buonanotte, buonanotte, arrivederci, arrivederci. Buona giornata, buona giornata, buona giornata, mi ha fatto piacere incontrarti, mi ha fatto piacere incontrarti, ragazza. Ragazza, ragazzo, ragazzo, ragazzo. Sorella, 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 fratello, fratello, fratello. Figlia, 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 figlio, figlio. Madre, madre, madre. Padre, padre. Padre. Moglie, moglie, moglie. Marito. 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 Nonna. Marito. Marito. Nonna. 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 nonno, nonno, neonato, 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 persone, 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 donna, donna, donne, donne, uomo, uomo, uomini, 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 bambino, 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 bambina, 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 studente, studente, dottore, 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 poliziotto, 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 uomo d'affari, uomo d'affari, uomo d'affari, sto cercando lavoro, sto cercando lavoro, sto cercando lavoro, come ti chiami, come si chiama? come ti chiami, come si chiama? come ti chiami, come si chiama? mi chiamo mi chiamo mi chiamo piacere di conoscerla piacere di conoscerla piacere di conoscerla posso esercitarmi con te? posso esercitarmi con lei? posso esercitarmi con te? posso esercitarmi con lei? posso esercitarmi con te? posso esercitarmi con lei? Da dove venite? Vengo dagli Stati Uniti. Vengo dagli Stati Uniti. Dove vive? Vivo negli Stati Uniti. Ti trovi bene qui? Devo andare. Devo andare. Devo andare. È un po' che non ci si vede. È un po' che non ci si vede. È un po' che non ci si vede. Mi sei mancato, mi sei mancata. Ti amo. Ti amo. Ti amo. Che novità ci sono? Che novità ci sono? Che novità ci sono? Niente di nuovo. Niente di nuovo. Niente di nuovo. Parli inglese? Parla inglese? Parla inglese? Parla inglese? Parla inglese? parla inglese? Un po', un po', un po'. Davvero? 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 Posso avere il tuo numero di telefono? Posso avere il tuo numero di telefono? Posso avere il tuo indirizzo mail? Posso avere il tuo indirizzo mail? Sei sicuro? Sei sicura? È sicuro? È sicura? Fai attenzione, faccia attenzione. Ho una domanda da fare. Voglio andare in spiaggia. Voglio andare in spiaggia. Voglio andare in spiaggia. Buona fortuna. Buona fortuna. Felice anno nuovo. Felice anno nuovo. Felice anno nuovo. Buon Natale. Buon Natale. Buon Natale. Buon compleanno. Buon compleanno. Buon compleanno. Felicitazioni. 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 Facile. 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 Difficile. Difficile. difficile domenica 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 lunedì 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 martedì martedì mercoledì 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 giovedì 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 venerdì venerdì sabato 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 tempo 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 ora 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 minuto 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 ancora 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 la notte scorsa 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 ci vediamo domani ci vediamo domani Ci vediamo domani. Stasera, 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 domani, 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 presto, 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 sempre. Sempre, sempre, a volte, a volte, a volte. Raramente, c'è vento, c'è vento, c'è vento. Un po' freddo, un po' freddo, un po' freddo. Può ripetere? Può ripetere? Può ripetere? Mi scusi, mi scusi, mi scusi, mi scusi. Non c'è problema, nessun problema. Non c'è problema, nessun problema. Può ripetere? Può ripetere? Può ripetere? Può parlare più lentamente? Può parlare più lentamente? Lo scriva, per favore. Lo scriva, per favore. Non capisco, non capisco, non capisco, non capisco. Ha capito cosa ho detto? Hai capito cosa ho detto? Come si dice in francese? Come si dice in francese? Cosa significa quella parola in inglese? Cosa significa quella parola in inglese? Cosa significa quella parola in inglese? Come dite ok in francese? Come dite ok in francese? Cosa è questo? Cosa è questo? Devo esercitarmi col francese. Devo esercitarmi col francese. Devo esercitarmi col francese. Cosa posso dire? Cosa posso dire? Cosa posso dire? Cosa posso dire? Lentamente. 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 Velocemente. 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 Testa. 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 Occhio. 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 Faccia. Faccia, faccia, capelli, 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 mano, mano, cuore, cuore. Stomaco, 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 gamba, 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 giacca, giacca, giacca. Pantaloni, 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 camicia, camicia, camicia. Scarpe, scarpe, scarpe. Calze, calze, calze. Portafoglio, occhiali, occhiali, occhiali. Vestiti, vestiti, vestiti. Pane, pane, pane. Pasto, pasto, pasto. Latte, latte, latte. Prima colazione, prima colazione, prima colazione. Prima colazione. Pranzo, pranzo, pranzo. Pranzo, cina, cina, cina. Zucchero, zucchero, zucchero. Cafè, café. Cafè, café. Cafè. Té, té. Té, té. Panino, panino. Eccolo, panino. Acqua. 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 Cibo. 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 Hai sede? Hai sede? Ho fame? Ho fame? Ho sede? Ho sede? Ho sede? Mi piacciono le banane. Arance. Mele. 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 Uva. 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 Banane. 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 Cipolle. 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 Carote. 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 Patate. 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 Pomodori. 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 Piatto. 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 Forchetta. 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 Coltello. 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 Cucchiaio. 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 Tavolo. 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 Coltello. Coltello. Sale. 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 Waitress. 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 Czzarella. Cosa consigli da mangiare? Cosa consigli da mangiare? Che nome ha questo piatto? Esquisito. 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 Il conto, grazie. Il conto, grazie. Il conto, grazie. Libro. 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 Penna. 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 Schivania. 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 Insegnante. 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 Pagina. 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 Laptop. 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 Scuola. 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 Università. 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 Casa 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 Camera da letto Camera da letto Camera da letto Porta 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 Bagno 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 Cucina 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 Frigorifero 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 Televisione 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 Finestra 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 Devo usare il pc 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 Devo usare il bagno Devo usare il bagno Gatto 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 Cane 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 Cavallo 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 Animale 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 Ho un cane Ho un cane Ho un cane Hai qualche animale? Hai qualche animale? Hai qualche animale? Supermercato 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 Farmacia 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 Banca 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 Ospedale 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 Blu 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 Marrone 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 Verde 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 Giallo 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 Rosso 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 Nero 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 Bianco 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 Aereo 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 Aeroporto 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 Autobus 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 Auto 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 Albergo Hotel Albergo Hotel Albergo Hotel Passaporto 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 Taxi Taxi Vicino 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 Lontano 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 Destra 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 Sinistra 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 Dritto 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 La 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 Qui 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 Cinese 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 Inglese 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 cinese americano, americana francese francese spagnolo, spagnola spagnolo, spagnola spagnolo, spagnola cina cina america 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 francia 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 spagna 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 mi sono perso mi sono perso mi sono perso mi sono perso ha bisogno di aiuto? 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 Non sono del luogo. Come posso arrivare al museo? Procedi dritto. Procedi dritto. Procedi dritto. Gira a destra. Gira a destra. Gira a destra. Gira a sinistra. Gira a sinistra. Gira a sinistra. È lontano da qui. È lontano da qui. Aspetta un attimo, per favore. Aspetta un attimo, per favore. È lontano da qui. È lontano da qui. È lontano da qui. Quant'è? 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 Questo costa troppo. Questo costa troppo. Questo costa troppo. Tu fammi uno sconto? Tu fammi uno sconto? Tu fammi uno sconto? Do solo un'occhiata. Do solo un'occhiata. Do solo un'occhiata. Accettate carte di credito? Accettate carte di credito? Accettate carte di credito? Solo contanti, per favore. Solo contanti, per favore. Solo contanti, per favore. Costoso. 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 Economico. 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 Ma di testa. Ma di testa. Ma di testa. Ma di stomaco. Ma di stomaco. Ma di stomaco. Medicinali. 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 Incidente. 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 Colpo apoplettico. Ictus. Colpo apoplettico. Ictus. Colpo apoplettico. Ictus. Attacco di cuore infarto Attacco di cuore infarto Attacco di cuore infarto Asma 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 Allergia 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 Chiami la polizia Chiami la polizia Chiami la polizia Chiami un dottore Chiami un dottore Chiami un dottore Chiami un'ambulanza Chiami un'ambulanza Chiami un'ambulanza Mi sento male Mi sento male Mi sento male Uno 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 Due 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 Tre 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 Quattro 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 Cinque 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 Sei 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 Sette 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 Otto 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 Nove 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 Dieci 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 Dopo 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 Prima 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 Sopra 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 Sotto 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 Dietro 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 Di fronte a Di fronte a Di fronte a Con 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 Senza 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 Per 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 E E E O O O Ma 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 No 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 Niente 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 Non ancora Non ancora Non ancora Non ancora Mai 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 Chi 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 Che cosa Che cosa Che cosa Perché 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 Come 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 dove 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 quando 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 vieni qui vieni qui vieni qui vai 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 aspetta 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 filmo 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 Grazie a tutti.